Guardami qua non so tanto pocciarlo se non avevi finito fin lì adesso ve lo voglio schizzarlo adesso basta pocciarlo Lorenzo No in frigo No, no in frigo, dobbiamo fare gli fatti? hai provato prima o no? Si, dica a farlo qua Qua esa parte di qua a fotografare non perdere l'ultimo video mi ha una foto questo è un videoclip fa che si sente che è bestemme ecco è appunto pocramento scarpanti ogni tanto ti vieni qua se ti vieni se ti vieni sennò Vito il discorso è che per fare il burro va a fare il sbattimento di qua, di là, di su guarda che se qua si ferma diventa duro e se caglia esatto allora ti troppo e vieni ma non è possibile 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 ma è educato ho voluto salvare di più di me ma ho fatto le scuole alte Senti, io a fare il camionista ti chiedi bravo, no, ma il bottigliano ti non mi ha fatto, no? Eh, ma... Ma questi anni ho fatto la bottiglia, ti metti la bottiglia sotto la noccia, e come che andava, eh? Eh, sì, eh? Eh, dopo che aveva mai le gambe per cui... Eh, ma intanto ho capito che dopo ho fatto il bottigliano, faccio così, con se diciamo il besoletto, eh? Fa il tono del besoletto, eh? Se devo farlo, credo, un piatto grosso, questo qua. Eh. Spera che vedremo, come lo posso fare? No, me lo vado solo dopo. No, ti metti, ti metti, ti metti, ti metti il motorino in casa. No, ma non ti metti, ti metti il motorino, ti metti il motorino, ti metti il motorino qui, ti metti il botton, tu che hai la benzina, e via.